Ciao a tutti ragazzi e grazie, io sono Luca e benvenuti in questo nuovissimo video di Assembly Line Vi spiegherò brevemente come si gioca Qui sotto avremo un inventario, diciamo, in poca parola Il martello serve per i nostri macchinari da fare e da costruire Poi scusate se ho un po' di affanno, però appena adesso che è la novantesima registrazione che faccio Allora, questo qua serve per vendere i nostri macchinari, per muovere i macchinari, per potenziare i macchinari Poi per sbloccare nuove aree, poi questo qua serve per fare circuiti, line line e le altre cose Poi, dato che, beh, questo serve per sbloccare un nuovo assistente, lei serve per le informazioni Impostazioni, vabbè, sapete cosa servono, impostazioni, questo qua è per avere mille gratis Questo qua per mettere in pausa un gioco, vabbè Direi di iniziare subito Iniziamo facendo uno qua, uno qua, uno, cosa ho fatto? No, ho sbagliato Tanto si può cancellare così Allora, starter, direi Dato che io mi sono già progettato una base in mente Direi di mettere uno starter Era qua Perché io ci ho già giocato, tanto che poi eri restartato Perché ho detto, vabbè, ci faccio un video E vabbè, sapete come è andata Allora, no, non lo sapete però Vabbè, giochiamo Poi di metterne uno qua E poi infine basta Infatti vedete che ci sono delle cose Poi sblocchiamo il roller Sì, ok, l'ho sbloccato E mettiamo uno di qua Sì Adesso avremo 3000 Con questi 3000 Con questi 3000 Noi dobbiamo fare Così Un roller qua Adesso noi giriamo tutto Ok E questo qua andava bene Ok, questo qua diciamo che è la nostra prima base E Sembra una scarpa così Però Vabbè Non girate ad altro modo se non la vedete Direi di metterci qua un copper Ok E qua un altro copper Bene Adesso inizieremo a guadagnare Infatti vedete che Stanno incominciando ad arrivare le merci Oppure potevamo farlo tipo in un modo molto più Diciamo Un modo molto più Facile Tipo mettiamo un roller qui a caso Lo spostiamo Va bene Facciamo così Spostiamo questo Spostiamo questo qua E questo qua Ok Va bene Così almeno abbiamo anche Non giratelo Perché sembra che poi mi lo banno Cioè mi bannano il canale Se lo girate Ok Abbiamo una macchina Qua Un macchinario Allora lo spazio che abbiamo è poco E tutto questo Cioè Sembra poco ma noi dobbiamo sbloccare Dobbiamo sbloccare tutto questo Eh sì Vedrete Tanti episodi di questo gioco Un episodio Durerà Cosa ho detto? Durerà Durerà più o meno 7 minuti Come gli altri episodi Tranne il primo episodio Vabbè Potenziamo Costa 5000 Un upgrade Qua cosa dice Gisela Start Electronic Cost by 2 Ok Questo qua serve Molto Perché Non lo so Perché Ok Cosa dice qua Like the game Rate No Cosa Cosa ho fatto? Ok ragazzi Intanto che chiudevo L'applicazione Ho anche Guardato un video Per 10.000 Ok Eh Dicevamo Adesso Potremmo Sviluppare Un altro circuito Però più lontano Di questo Eh Dato che Per fare questo circuito Ci servirà il fornese E il fornese Costerà 20.000 Direi Dato che questo circuito Non è tanto Cioè Non è tanto Come posso dire Non frutta tanto Direi di Mettere un altro Roller Tipo qua E un altro Starter Pure qua Intanto di starter Non vi ho detto Ma se ne possono avere Massimo Eh 8 Se ne possono avere Andiamo di spostare Tutto Qua 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 Ok Questo qua Qua E questo qua Qua Ok Sembra un po' brutto Da vedere Però Vabbè L'importante Che servo E qui metteremo L'alluminio Ok L'alluminio Adesso farà Uscirà Farà così E entra Perfetto Funzionante Direi Basta Sì Oppure Potremmo mettere Un altro Starter Qua E poi Direi di fare Un macchinario Che arriva fino a qua Sida Facciamolo Così Do si dà Boh Sa parlare Oggi Roller Ok Giriamo Questo Così E questo Così Ok Vi hanno già fatto Il nostro macchinario Ci mettiamo anche qua L'alluminio Adesso guardate Funziona Ok Vabbè Ok Funziona Funziona Adesso abbiamo 1,2,3,4 Macchinari E vedete già quanto Abbiamo Consumato Dato che Volevo metterli Tutti attaccati Macchinari Dato che non voglio Lasciar spazi Sì Mettiamoli Facciamo stradine Che portano Tutto a questo Strano Perché sono strano Io E mi piace essere strano Vabbè Questi qua sono altri dettagli Potremmo anche mettere Uno starter qua E fare Roller 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 E fallo Arrivare qua Sì Dovremmo un po' Girare le cose Questo qua va Qua Che questo qua va qua Che questo qua va qua Va Così Sì Sì Perché poi attaccheremo L'altro qua E qua direi di metterci Il nostro primo Iron Ok Vediamo se funziona Va qua 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 Ok sì Perfetto va Sì Non si è rotto Ok Perché sì In questo gioco Si può anche rompere Il macchinario Poi direi di mettere Un altro roller Qua E Semplicemente Di metterci Tutto Tipo Un altro iron No 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 Direi di metterci qua L'alluminio No l'alluminio Ce l'abbiamo già qua E qua E qua Ok Ce l'abbiamo due Quindi qua Iron Va bene Dato che abbiamo due copper Due Alluminio E due Alluminio Cosa ho detto Ok Abbiamo 20.000 Potremmo farci L'ultimo No Ne abbiamo Due Tre Quattro Cinque Sei Ne abbiamo Possiamo fare ancora due In tutto il gioco Perché Poi direi Di cambiare Proprio Tutto il sistema Allora Intanto Blocchiamo Il furnace Che costa 10.000 Eh sì Direi Potrei Fare così Sto pensando Proprio Così Diciamo che Il primo episodio Potremmo fare Ad arrivare A 10 minuti Ed entro oggi Possiamo avere Due episodi Cioè no Entro oggi Possiamo avere Uno Due video Direi Di Siva Facciamo 10 minuti Questo Ok Sta funzionando Tutto bene Cioè Sono proprio Sono felice Di quello Che ho creato Sì Poi direi Che cambieremo Tutto Ditemi Se volete Delle live Perché Sarei intenzionato A farle Ok Fammi arrivare A 10.000 Perché Io direi Di mettere La fornace Aspettate Che guardo Un attimo La fornace Che non me la ricordo Già più Ok Trasforma Diciamo Ok Ho capito Tutto Allora Qua Facciamo una bella X Prima mettiamo la fornace Ok E la mettiamo qua È girata nel verso giusto Quindi X No non X Questa Muovi Questo qua E questo qua Ok adesso vi faccio vedere Come funziona Ecco Li fa diventare liquida Questo qua Toglilo No potrebbe Sì Va bene Toglilo E non mi dà soldi indietro Ok Allora Sì dai Sta funzionando Abbastanza bene Io direi Che per questo Epilodo È tutto Abbiamo fatto Abbastanza Cioè Abbiamo Migliorato Il nostro La nostra produzione Ovviamente Quando sono via Continuerò ad andare Quindi Vi accumulerò soldi E niente Io direi di beccarci domani Con le nuove video di Pooh E un altro video di questo Da me è tutto E niente Bye Bye E Ditemi Se vi piace Lasciate un commento E niente Ciao Ciao